Regolate gli elastici, fatta la mascherina, credo che costi 10 centesimi Non ho la mascherina, come faccio ad avere la mascherina? Ora ve lo faccio vedere, questa è una carta da forno, perché la carta, come ha detto il professor Garbagnati, deve essere assolutamente impermeabile La carta forno è perfetta, quindi la piegate da un verso e dall'altro, come sto facendo È una cosa veramente economica ma sicura, perlomeno per quando uno esce e quando non ha la mascherina, quella brevettata a casa Si prendono due elastici, si gira, dobbiamo ovviamente fissarli con la spillatrice Da una parte, dall'altra Quindi spillate due elastici, uno di qua e uno di là Dopodiché aprite Spoggiate sul viso e Regolate gli elastici Fatta la mascherina, credo che costi 10 centesimi